Il vertice tra i 27 stati membri dell'Unione Europea e i 6 paesi dei Balcani Occidentali extraeuropei si è concluso con un nulla di fatto. La Bulgaria non ha ritirato il veto sulla ripresa dei negoziati di adesione con la Macedonia del Nord a causa di una crisi politica interna e questo minaccia anche il percorso dell'Albania, che è legato a quello di Scopie. Quello che sta succedendo è un problema serio, un duro colpo per la credibilità dell'Unione Europea. Stiamo sprecando tempo che non abbiamo a nostra disposizione. Noi, la Macedonia del Nord, l'Albania e tutta la regione non possiamo restare in questa situazione per un paese che è incapace di sbloccare il nostro percorso verso l'Unione Europea. Non dobbiamo permettere che questioni bilaterali diventano problemi multilaterali. ha affermato in conferenza stampa il primo ministro macedone Dimitar Kovacevsky. Le critiche più dure sono arrivate dal primo ministro albanese Edi Rama. L'aggressione russa dell'Ucraina sta ricevendo un sostegno enormemente generoso e spontaneo da parte di un paese della Nato, la Bulgaria, che sta destabilizzando un altro paese dalla Nato, la Macedonia del Nord, ha sottolineato il primo ministro albanese. Il vertice, organizzato da mesi, doveva finalmente riattivare il processo di adesione all'Unione Europea di Macedonia del Nord e Albania. La crisi di governo e il possibile ritorno alle urne in Bulgaria sta invece rimescolando le carte.